Unboxing del Samsung Galaxy S6 Un modello da 32GB La scatola è abbastanza carina La garanzia è italiana Andiamo ad aprire la confezione Troviamo la scritta isolata Samsung Andiamo a aprirla Troviamo subito il telefono Che mi si è anche acceso Lo togliamo Dopo comunque lo andiamo a vedere meglio Troviamo la scatoletta in cui ci sono le istruzioni Poi la graffittina per levare la sim Che è abbastanza carina Ha questo stile simpatico Poi troviamo il cavo di ricarica E il fast charge Che ricarica il telefono in una mezz'ora Poi troviamo le cuffie Molto criticate perché simili a quelle dell'iPhone Ma comunque si sentono abbastanza bene Togliamo la confezione Prendiamo il dispositivo Togliamo il led della notifica La capsula auricolare La fotocamera da 5 megapixel Pulsante home con impronti digitali Pulsantini led Jack delle cuffie Entrata micro usb otg Primo microfono E casse Pulsante blocco sblocco Entrata per la sim Secondo microfono Infrarossi Poi i pulsanti per abbassare e alzare il volume Su rete la fotocamera da 16 megapixel Poi lettori di battiti card 10 e flash Lo smartphone è realizzato in alluminio e vetro Si viene davvero molto bene in mano Ha un ottimo grip Ora confettiamolo al volo con iPhone 6 Possiamo notare che le dimensioni sono molto simili Anche per quanto riguarda lo spessore Beh questo dispositivo è davvero molto bello Samsung ha fatto un ottimo passo avanti Per quanto riguarda i materiali E secondo me anche il software Mettete like al video se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Fatemi sapere la vostra Questo è tutto per questo video